Dicono che io non ho più il corpo di una volta. E chi stai chiede l'ha prestata? Mi preghi adesso va via. Guarda che ho già chiamato il coppietro! Ti faccio puntare sulla porta! Non vedi che tutti abbiamo uno scheletro nell'armadio? Tu padre non ha nessuno scheletro nell'armadio e non ha niente da nascondere. Ora te mi prometti che questa squadra è la chiudica? Ti prometto che ha questa storia, metto finito. SMS sotto mentite spoglie. Giovedì alle 21.10 su Canale 5.